Il treno R40 Slant di New York è venuto a Roma Montemario perché c'è la migrazione dei treni tra gli Stati Uniti d'America e Italia. Il treno Criveland Airporter di Criveland è venuto a Roma Ostiense perché c'è la migrazione dei treni tra gli Stati Uniti d'America e Italia. La stazione Roma Ostiense è chiusa a causa del deragliamento del treno ETR 500 Frecciarossa 40, B e deragliamento dell'ETR 414 nel 21 e 17, questa stazione è chiusa tra le 21 e 17 e le 8 e 04. Sulla stazione di Campi Flegrei di Napoli vengono solo gli Antrach perché l'America ha conquistato Napoli e ha messo Napoli, FL e la legge è cambiata quella dell'America, puoi prendere Takis, prime, cinnamontoastcrunk ma niente pasta, boom e pane con la mollica o senza. Sulla stazione di Campi Flegrei di Napoli